E siamo alla seconda, ancora una buona moneta per buoni anziani sul miglio, pochi ma buoni sono in sette, dove Patroclo, netto favorito dopo l'ottimo rientro. Per quanto concerne la corsa precedente, l'uno, anche lui, era finita a tabellone, quindi giusto il terzo posto del numero sei, Upper Jet. Mezzo meccanico in movimento, arretrato Silvestre Arfiero, numero sette, imitato proprio da Patroclo. Va bene gli altri a rete, va via la macchina in velocità, buono il lancio. Serratissima la lotta per il comando, Siento tenta di arginare gli arrembanti o Norma Rabbe e soprattutto Raschin Ronco. E l'allievo del francesino a largo di tutti insiste, 12 e 9 il lancio e siamo al completamento. La piegata è la piegata con Norma Rabbe che dà strada al ronco di Minopoli. Si completa la piegata, anche i 400 piuttosto violenti, con Norma che sposta, 28 e 3, freeway gradato per Norma Rabbe, mentre fu ricorso il set di Silvestre Arfiero. Si va al completamento dei 600, i 600 iniziali, con Norma Rabbe che sta passando per non entrare negli strali della giuria, e così 43 e mezzo i 600, Norma Rabbe al comando. Risale il favorito Patroclo che si trascina Memoroc. Si completa il mezzo miglio iniziale, passato in 59 e 2, una versione 1 e 15 e 7, si viaggia da 1 e 14. Norma Rabbe, Raschin Ronco, Patroclo al salchi di Ronco. Viene via il Luis di Di Nardo parato da Raschin Ronco, ma Patroclo insiste. 13 e 7 succulenti il chilometro e Patroclo piumba su Norma Rabbe. Cavalli che affrontano la curva finale. Norma Rabbe generosamente tiene a bada, ma Patroclo sembra un rullo. Non è quello del nord, ma è questo Luis. Cavalli in dirittura, con Patroclo che si sbarazza di Norma Rabbe, allunga, si distende e se ne va. Alla grande il 4 di O'Neill, bye bye. Patroclo in un'altra dimensione. Meritatissimo primo piano, 1 e 30, Luis al doppio, prima con Ugando, ora con Patroclo. Per il terzo è il francesino, con Raschin in Ronco. 1 e 57 e mezzo, 1 e 13 e 4. Stato di servizio al top, guida al top, training al top. Signori, Patroclo, targato Luis, di tutto di più. Alla grande O'Neill, bye bye, con l'ottimo Siddi, che cura una buona seconda moneta, mentre da segnalare questo ronco della parte del francesino. Buonissimo per la prossima linea allo studio. La quota, ripeto, 1 e 30. Grazie. 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 Grazie.